Le prove non reggono ed è stato scarcerato su ordine del Tribunale del Riesame uno dei tre richiedenti asilo arrestati a fine luglio con l'accusa di aver violentato ripetutamente a Trieste una ragazzina di appena 12 anni, adescata in un giardinetto pubblico con la scusa di una bibita fresca. Non ci sono prove schiaccianti nei confronti di Zubir Khan, 19enne, il più giovane del gruppo. Secondo l'accusa, infatti, sarebbero quattro, due afghani e due pakistani, le persone che una dopo l'altra hanno violentato la ragazzina che è stata poi portata all'ospedale dove è stata accertata la violenza. Uno non è mai stato rintracciato. Il Tribunale del Riesame ha anche disposto l'annullamento dell'arresto nei confronti di Arif Hussein, 24enne, il secondo pakistano fermato con l'accusa di violenza sessuale. Lui però è rimasto in carcere perché nel frattempo sono state depositate prove nuove. Notizie che hanno creato sgomento in città, mentre gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire con chiarezza l'accaduto. Anche in Veneto, a Castelmassa, in Polesine, una donna ha denunciato un grave episodio di violenza sessuale. Un uomo marocchino di 43 anni è riuscito ad entrare nel suo appartamento con una scusa e l'ha gettata a terra tentando di farle violenza. Lei però è riuscita a liberarsi e a mettere in fuga l'aggressore che è stato arrestato.